abc youtube ben trovati da marco liguri in questo video con grande dispiacere parliamo di un grave lutto per la musica italiana ci lascia un personaggio che non esiteremmo a definire come mito assoluto e prima di saperne di più vi ricordo che a 700 like pubblicherò immediatamente un nuovo video un fulminaccio al sereno affunestato il cielo della musica italiana nelle scorse ore e all'età di 89 anni ci ha lasciato un artista un cantante ma anche un pioniere e un rivoluzionario della musica nostrana ci lascia soprattutto colui che ha scoperto il più grande di tutti i tempi e con grande rammarico che il primo di marco liguri annuncia la scomparsa di roberto matano cantante e produttore discografico ha lavorato con big del calibro di gino paoli e adriano pappalardo è stata la voce della storica band degli anni 50 i campioni roberto matano per tutti i robi è scomparso nelle scorse ore era di cisterna di latina ma era trapiantato a bergamo da tanti anni risiedeva romano di lombardia a roby matano va soprattutto il merito di aver scoperto il più grande di tutti i tempi lucio battisti fu proprio lui a scoprirne le qualità vocali ad inserirlo nella band dei campioni dove lucio battisti entrò come chitarrista per la cronaca in sostituzione di bruno de filippi il prima di marco liguri con tutto il dispiacere del mondo ricorda roby matano e lanciamo al grande roby matano un triplice ringraziamento grazie per la musica grazie per la passione e soprattutto grazie per lucio battisti amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video seguitemi anche sui canali youtube secondo canale di marco liguri e marco liguri psicologia e crescita personale ciao a tutti